One Health è una locuzione ormai entrata nel linguaggio molto allargato, una sola salute, quella umana, quella ambientale, quella animale. Tanti convegni, tante occasioni di interesse su questo tema in questi anni. La prima volta però che viene in mente di promuovere una riflessione su che cosa in questi vent'anni la giurisprudenza a livello apicale, in giro per il mondo, ha detto sulla salute sola, umana, ambientale e animale, è proprio in occasione del prossimo convegno di diritto sanitario che si svolge ad Alessandria il 21 e 22 di ottobre. Quindi sarà interessante vedere tra giuristi e non giuristi che cosa su questo tema che riguarda ciascuno di noi hanno detto, stanno dicendo con quali prospettive le giurisdizioni perché poi alla fine nel difficile sempre rapporto tra livello politico, quindi democrazia laddove la democrazia c'è e giurisdizione, riuscire a trovare un giusto equilibrio è la sfida di sempre.